Le ho osservate a fondo Vegetis Bellissimo, divertentissimo Vegeta lo fa arretrare Fantastico, fantastico Che ti succede, Giren? Ma allora, ce la puoi fare? Basta, ora non diciamo sciocchiezza Siate realisti Non vorrei dire ma... Non vorresti dire ma... Ma cosa? Ma forse il piano di Vegeta era di arrivare proprio a questo punto del Giren